Bentornati ragazzi ancora una volta qui sul canale di zorro.it e come al solito sono Giovanni e oggi ragazzi torniamo a parlare di iPhone, torniamo a parlare di Apple e nello specifico come promesso iniziamo a fare un po' di confronti con iPhone 12 e nello specifico oggi iniziamo come da titolo con un confronto molto interessante e abbastanza richiesto soprattutto sui miei profili o meglio iPhone 12 versus iPhone 11 Pro e all'inizio di questo video capirete con un po' di premesse perché proprio fare questo confronto potrebbe essere giusto ma prima di iniziare vi dico sempre che qui sotto in descrizione voi trovate il link di Instagram e Facebook per qualsiasi cosa siamo sempre a vostra completa disposizione e soprattutto trovate anche il link del nostro nuovo sito mi raccomando fateci un salto perché potreste trovare diverse offerte, promozioni e non solo interessanti che potrebbero veramente aiutarvi in diverse occasioni detto questo però andiamo direttamente al succo e andiamo a fare le giuste premesse o meglio partiamo dal fatto che ho deciso di realizzare questo confronto comunque questo confronto tra iPhone 12 e 11 Pro perché sono i due dispositivi che ho provato di più e quindi mi sento un attimino più libero e sicuro di parlarvene al 100% e vedere appunto quale scegliere tra uno e l'altro numero due, un'altra cosa molto importante è che iPhone 12 a parer mio e non solo da quelle che poi sono le voci online è praticamente il migliore di quest'anno per quanto riguarda il rapporto anche in generale qualità-prezzo se così possiamo dire e che si avvicina particolarmente ad iPhone 12 Pro e allo stesso tempo ok che iPhone 12 Pro ha una fotocamera in più eccetera eccetera ma comunque vi dicevo sono potenti uguali quindi tutti i dispositivi hanno la stessa potenza perché hanno lo stesso processore quindi andate belli che tranquilli anche sotto questo punto di vista e ragione numero 3 che secondo me ci porta anche a giustificare questo confronto è il prezzo attuale dei due dispositivi infatti sia iPhone 12 che iPhone 11 Pro sono attualmente disponibili sul mercato ad un prezzo molto molto vicino nuovi e iPhone 11 Pro ha qualcosa in meno anche ricondizionato o magari usato quindi detto questo andiamo al confronto e partiamo subito con la batteria perché vi ho detto nelle recensioni di iPhone 12 che è un po' sotto tono ma ragazzi ci siamo forse o comunque mi sono ecco e chiedo anche scusa ha spiegato magari male sotto questo punto di vista ma non è che l'iPhone 12 va male per quanto riguarda la batteria è sì leggermente più piccola vi lascerò poi qui in sovraimpressione qualche dato tecnico che oggi non mi preme principalmente sottolineare ma in generale vi dico che va comunque bene e vi porta a sera senza alcun problema e se vogliamo confrontare i due dispositivi quindi iPhone 11 Pro da una parte e iPhone 12 dall'altra e proprio si tratta di piccolezze ma comunque sappiate che vi portano tutti e due a sera almeno con il mio utilizzo e ci sono poi i vari live batteria sui canali Telegram che trovate in descrizione e quindi potete approfondire ma soprattutto se ci seguite online su Instagram e soprattutto sugli altri social saprete che comunque abbiamo effettuato i giusti test e ci siamo fatti le giuste chiacchierate in generale parlando invece un attimino di utilizzo sappiate che io lo utilizzo in generale o comunque utilizzo questi due smartphone molto su Netflix, YouTube, tanto Instagram poche chiamate perché non effetto tantissime chiamate ma comunque funzionano bene perché un'altra domanda che mi avete fatto è come funziona la recezione eccetera eccetera 5G eccetera eccetera sappiate che il 5G come detto in precedenza non l'ho provato ma comunque in generale prendono bene vanno bene non ci sono problemi per quanto riguarda le chiamate andate belli che tranquilli poi se avete altri dubbi ditercelo sempre qui sotto nei commenti perché vi rispondiamo e vi diamo tutti i vari feedback in base ai vari test detto questo e andando avanti vi dico che lo utilizzo per Instagram Facebook ci faccio molte foto molti video e quindi lo utilizzo veramente in maniera stressante ma comunque mi portano a sera vi dicevo iPhone 12 con circa 10% di batteria residua iPhone 11 Pro lo utilizzo ormai da un bel po' di tempo la batteria è andata un attimino a diciamo così a usurarsi comunque è un attimino peggiorata per quanto riguarda la sua carica totale però comunque mi porta a sera anche lui senza problemi e arrivato a questo punto direi di andare avanti e andare direttamente verso un'altra cosa molto importante o comunque una caratteristica visiva che li distingue o meglio il design e beh qui abbiamo due design diversi da una parte abbiamo il design squadrato ci porta un pochettino indietro si avvicina un pochettino agli iPad Pro o comunque abbiamo qualcosa di effettivamente nuovo visto che il design tondeggianti di iPhone 11 Pro design saponetta chiamatelo un po' come volete ormai ci accompagna effettivamente un bel po' di tempo parliamo in generale se vogliamo vedere un po' queste curve queste smussature queste curve eccetera eccetera a partire dagli iPhone 6 e c'è tutti questi discorsi qui ma comunque sono due design diversi e che devono piacere quindi uno dei consigli che vi potrei dare così subito è di andarli un attimino a provare perché nel mio caso noto che è vero che l'iPhone 12 è leggermente più interessante da prendere in mano passatemi il termine potrebbe sembrare ambiguo ma capitemi si legge un pochettino meglio e quindi ci potrebbe stare ma al suo tempo preferisco le dimensioni e in generale proprio il feedback nell'utilizzo quotidiano dell'iPhone 11 Pro ma è qualcosa di molto personale quindi non voglio andare troppo oltre sotto questo punto di vista resta a voi la scelta sono comunque due dispositivi molto molto belli esteticamente non solo e quindi andate belli che tranquilli sotto questo punto di vista non c'è alcuna differenza se non per una caratteristica o meglio del vetro posteriore per iPhone 11 Pro abbiamo questo vetro un attimino così io pago questa finitura molto interessante che continuo ad apprezzare e dall'altra parte una finitura lucida molto semplice da una parte poi il frame abbiamo l'alluminio e dall'altra l'acciaio però questi sono dettagli di Pro e iPhone standard normali che però allo stesso tempo se volete proprio quella caratteristica su quel dispositivo parlando di estetica dovresti andare sull'iPhone 12 Pro chiuso a questo discorso andiamo sul display qui abbiamo un po' di differenze perché cambiano le dimensioni e visto che parliamo di un display piatto perché è proprio piatto il display di iPhone 11 Pro abbiamo anche in un certo senso queste cornici che ci potrebbero sembrare alcuni un po' più piccole ad altri un po' più ottimizzate ma in generale sono praticamente quasi uguali a parer mio per il resto vi dico che abbiamo un display per quanto riguarda iPhone 12 da 6,1 pollici 1170 per 2532 pixel 460 ppi xdr oled mentre iPhone 11 Pro 5,8 pollici 1125 per 2436 pixel 463 ppi in questo caso solo oled tolti questi dati tecnici succo del discorso sono fantastici si vedono bene sotto qualsiasi condizione di luce ma in assoluto vi dico che sotto questo punto di vista iPhone 12 forse ha una piccola marcia in più ho comunque notato che nell'utilizzo quotidiano soprattutto all'aperto sotto la luce diretta del sole non lo so ma si vede leggermente meglio quindi direi che ci siamo è migliorato sotto questo punto di vista ma vi dico che poi messi un pochettino vicini è praticamente impossibile capire diciamo le differenze o comunque vedere proprio nello specifico chi sia migliore ecco quindi ci siamo sono vicini ma leggermente meglio iPhone 12 c'è da dire piccolo miglioramento c'è stato ovviamente 60 Hz non ci sono 120 90 sapete sempre soliti discorsi quindi andiamo avanti e ovviamente anche in questo caso abbiamo sempre Face ID quindi tranquilli funziona allo stesso modo non ho avuto o comunque non ho notato grosse differenze e Lightning quindi niente Type-C per chi non fosse aggiornato magari recuperate la live di voglio dire la recensione di iPhone 12 andiamo avanti andiamo invece adesso a parlare di un'altra caratteristica molto importante o meglio il processore perché sotto questo punto di vista su iPhone 12 abbiamo un processore molto interessante con un nuovo processo produttivo abbiamo comunque prestazioni superiori o comunque dovremmo avere prestazioni superiori e nello specifico vi parlo dell'A14 Bionic mentre sull'iPhone 11 abbiamo l'A13 Bionic e anche in questo caso tornando al succo del discorso vi dico che le differenze non si notano a parere mio non noto nessuna differenza se non appunto come detto anche durante la recensione piccoli miglioramenti in utilizzo super stress quindi mi parlo di non so editing video gaming super intenso a lungo andare lui tende ad andare meno sotto sforzo mentre l'A13 va un attimino così ci pensa un po' a volte ma nulla di così esagerato nell'utilizzo quotidiano sono praticamente sovrapponibili sono veramente dispositivi che funzionano molto bene e fidatevi l'iPhone 11 Pro l'utilizzo ancora oggi praticamente tutti i giorni praticamente sempre ed è anche un po' il mio metodo di riferimento per alcuni smartphone ovviamente non ambito non tanto non ci faccio tanto peso perché comunque iOS è diverso da Android tutte queste cose qui ma comunque vanno bene e sotto questo punto di vista non c'è da dire quello va meglio quello va peggio quindi prendo l'iPhone 12 ma c'è da fare un po' di considerazioni quindi vedere anche come utilizzate effettivamente l'iPhone verso la fine andiamo poi a dare le conclusioni e capirete un attimino quale potrebbe essere la scelta giusta arrivando invece ad un altro punto molto importante che sicuramente potrebbe essere interessante per molti di voi è quello che riguarda la fotocamera e quindi foto e video ovviamente vi ricordo che qui abbiamo due sensori o comunque sull'iPhone 12 abbiamo due sensori da 12 megapixel di cui uno f1.6 che è poi l'aggiornamento generale che è stato effettuato su questi nuovi dispositivi della mela mentre dall'altra parte abbiamo tre lenti perché appunto parliamo della versione Pro e anche in questo caso abbiamo sempre lenti f1.8 volevo dire abbiamo la differenza di avere una lente principale f1.8 ma comunque sempre tutte da 12 megapixel andando invece a vedere e toccare con mano le differenze le differenze non si notano a condizioni di luce ottimale infatti con condizioni di luce normali non abbiamo praticamente differenze sono veramente sovrapponibili e sotto certi punti di vista forse i colori di iPhone 11 Pro mi piacciono un pochettino di più perché a volte un po' più caldi non so vengono gestiti in maniera diversa non si nota tantissimo dai video infatti vi ripeto che sono abbastanza sovrapponibili ma vi dico che utilizzando ho notato questa differenza e quindi voglio sottolineare questa cosa andando invece avanti per quanto riguarda i video non ho notato praticamente differenze anzi abbiamo veramente delle ottime performance tutti si vedono bene e quindi state vedendo anche dalle clip come vanno e vi lascio magari un pochettino di clip così in sovraimpressione mi raccomando guardatele un po' e vi metto poi sotto quale ha registrato cosa e quando eccetera eccetera e quindi date un'occhiata fate le valutazioni ma veramente sotto questo punto di vista non ci sono grosse grosse differenze ma andiamo alle conclusioni e capiamo quale comprare beh sotto questo punto di vista ragazzi non è facile darvi appunto un qualcosa di ben definito ma vi dico quello che penso e poi voglio sapere la vostra sempre qui sotto nei commenti naturalmente secondo me se state per entrare nel mondo Apple e quindi volete iniziare a vedere sperimentare eccetera eccetera quello che è iOS l'iPhone eccetera eccetera io vi consiglio di valutare particolarmente l'acquisto di un iPhone 11 11 11 pro perché comunque di grosse differenze non ne abbiamo appunto come detto anche nella recensione parliamo di miglioramenti ma non stravolgimenti poi se vi piace il design dell'uvi iPhone allora ok potrebbe essere una giusta motivazione per poi acquistare direttamente un iPhone 12 e non abbiate paura degli aggiornamenti perché pensate un attimino al fatto che stanno ancora aggiornando iPhone 7 quindi parliamo dell'11 pro sotto questo punto di vista state tranquilli perché me l'avete chiesto in un po' di voi se dovete scegliere tra 12 e 11 pro perché le avete davanti tutti e due nuovi parità di prezzo valutate un attimino e secondo me potrebbe essere particolarmente interessante comunque magari a parità di prezzo scegliere un iPhone 12 perché comunque è nuovo e ha qualcosina in più e il processore magari vi potrebbe dare qualcosa in più se invece state acquistando uno smartphone e avete visto che effettivamente comunque state cercando un iPhone avete visto che effettivamente lui lo trovate a 100 150 euro in meno rispetto ad un iPhone 12 fidatevi che quei 100 150 ve li potete spendere in altre cose tipo accessori tipo AirPods perché effettivamente lui va ancora una meraviglia so bene che non sono particolarmente che non sono stato particolarmente chiaro anche nella scelta poi del dispositivo ma non è facile darvi una scelta giusta come detto in precedenza comunque dire dovete fare questo perché è questa la cosa intelligente anche perché resta un attimino poi a voi la scelta ma in generale vi dico che non ci sono grosse differenze e se trovate lui a un buon prezzo secondo me potrebbe essere veramente un super acquisto poi voglio sapere la vostra e nulla con questo non voglio bocciare iPhone 12 non voglio bocciare iPhone 12 Pro ma vi sto dicendo che per chi vuole fare l'acquisto giusto vuole entrare magari nel mondo Apple e non ha bisogno del massimo del massimo iPhone 11 Pro ad oggi è ancora una scelta super super valida detto questo ci vediamo vi ringrazio come sempre per il supporto e nulla un bacione un abbraccio da Zorro.it del Fianata e da Giovanni è tutto buona giornata grazie a tutti